L'accusa è pesantissima, tentato omicidio aggravato mediante aggressione con liquido infiammabile e successivo incendio. Protagonista della vicenda scoperta dai carabinieri è un pastore riesino di 20 anni con piccoli precedenti per droga. Si tratta di Vito Emanuele Ciccia Romito. L'episodio si è verificato sabato nel centro storico della cittadina Nissena. Intorno alle due i militari dell'arma sono stati allertati da una segnalazione di un soggetto che era stato dato alle fiamme in piazza Garibaldi all'angolo con Corso Vittorio Emanuele. Giunti immediatamente sul posto i carabinieri hanno trovato un cittadino romeno di 41 anni che stava per essere trasportato dall'ambulanza presso l'ospedale di Mazzarino. Sullo suo corpo era stato gettato addosso della liquido infiammabile da parte di un giovane che si era dato la fuga nelle vie limitrofe. Il rumeno, vittima dell'aggressione, presentava numerose ostioni gravi su tutto il corpo ed immediatamente è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravissime condizioni. I militari dell'arma hanno tentato immediatamente di capire notizie sull'accaduto dai presenti e dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza individuando il giovane pastore come autore del fatto. Tradotto in caserma, Vito Emanuele Ciccia Romito è stato dichiarato in stato di arresto ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza sullo stesso. I motivi della gravissima aggressione mediante liquido infiammabile sono tuttora al vaglio degli investigatori. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria.